Oh no, Sarlanga di solito gioca elfi, quindi ci scoperà malissimo adesso. Bene così. Tipo, venire scopati a Magic è il maggior picco dell'attività sessuale dei nerd. O comunque qualsiasi sia la denominazione che date alle persone che giocano a Magic, oltre che sfigati. Ricordatevi che il vero Magic è Commander. Chi non gioca Commander non sa divertirsi. E chi gioca Commander nemmeno, però fa finta di saperlo, per potersi burlare degli altri giocatori di Magic. Ora in particolar modo salutare il mio amico Mattia Gallinaro che gioca Commander. Nonostante questo però è una bella persona in realtà. Questa la proviamo a tenere perché è una partenza decente, cioè facciamo turno 1 accelerino, turno 2 accelerino. Ueeh, non stai giocando gli elfi, stai giocando la Mono Nero. Bello, ma non... I mazzi col nero contro doppio Bonder's Ornament. Bisogna chiamare verde perché comunque c'è doppia montagna in mano. Allora, community, gestione dei ruoli. Porco Dio, ciclo combo. Ah, sei rimasto... No, ovviamente gioca 9 terre, ne ha sempre 2 in mano iniziale. Il prossimo turno gli possiamo cagare qualcosa in campo. E speriamo che gli piaccia. Aggiungi uno nuovo. Zio, franacone. Aggiungi ruolo. Moderatore. Lo mettiamo come VIP. Non so cosa faccia il fatto che sia un VIP, però comunque sembra figo. Mi stai scombando di terzo? Oh, ti posso ammazzare il pezzo! Ecco, il zio franconi è diventato un VIP adesso. 4, 6, 7. Voi può scombare il prossimo. Potrei ammazzarvi il pezzo. Io gli ammazzo? Cioè, se lui mi ha costato il pezzo, che lo ammazzo? Vaffanculo. Boh, vediamo. Mi hanno fatto dispe su Vishur prima. Ci sono rimasto malissimo. Sì, cicla, cicla. Fai le tue ciclate. Probabilmente non era giocata più corretta, però se lo lasciavo in campo dopo cominciava a farmi danni anche senza che lui potesse scombare in risposta. Ovviamente adesso ha la combo, quindi. Ah, il secondo anert! Bravo! Complimenti! Immagino che sia la skill di giocare mazzi nettamente più forti e performanti nel meta. E' un mazzo che muore da fatire in un meta dove fatire è il mazzo che è giocato. Non è un mazzo che muore da monoperdi bociukaboghi in un mazzo che gioca fino a 3 perdi pro rotation. Cioè, effettivamente ciclo combo è il mazzo della speranza, del futuro, dell'alleanza. Ok, abbiamo 2, 4, 6, 8 mana. Ci conviene probabilmente appoggiare un boarding party e possiamo rimanere open di 2 mana, perché così o tiriamo Rhyme Tender, oppure 9,90 grazie per il follow, oppure facciamo quel bel kicker di Molshambler. Beh, anche questo è accettabile. Avvio una terra! Comunque adesso ci sono 3 turni di clock di boarding party. Non penso che ce li verremo mai, però... Non è mai comunque brutto cascare anche gli acidi contro questo mazzaccio che giocano solo 9 terre. Qualcuni in più dati... No, mi sono dimenticato a giocare a Rhyme Tender! Che disastro! Mandiamolo basso, poi a street weight limitate. Sì, sì. Io ho una terra. Ho tappato male del mana. Ok. Rhyme Tender. Veniamo per... In realtà mi conviene menare anche soltanto quel boarding party. Cioè, tanto... Oddio, in realtà lo trovi a guadagnare vite, che daranno i healer, però dovrebbe giocarne uno. Possiamo tenerci comunque la Boref per farare. Esatto, proprio quel mazzo lì. Adesso comunque... Oh, qualcuno adesso deve bloccare... Yeah! Doppio slando e si ritorna a giocare. Che bello. Che bello, che bello, che bello. Post 6 li possiamo mettere dentro in Least Disciple. Possiamo togliere Sitano Wood Readers, Entourage of Thrust. Mi piacciono in Least Disciple perché guadagnando un po' di vite possono portarmi un po' alto. Tipo rendere un po' più la vita difficile per lui, soprattutto se sto mettendo più pressione. Game Slash e Firiccanonade non mi piacciono particolarmente perché... Vabbè, Firiccanonade... Perché comunque lui i tizi li gioca più che altro quando sta già scumbando. Mi sponsorizza Card Order? Ma il ciclo storm l'ho già giocato prima. L'ho già giocato prima, l'ho fatto 0-4. Ho giocato la lista di Bragiotto che lui pensava di avermi mandato la lista corretta, invece mi ha mandato una lista vecchia e quindi abbiamo fatto ancora più pena di quanto potessimo fare. Card Order mi sponsorizza, mi dà la possibilità di... Praticamente mi dà in prestito le carte, lo servizio di Loan, servizio di affitto, per non chiamarlo, e posso utilizzarle per lo streaming. Ciclo storm fa pezzo, soprattutto le liste di Bragiotto fanno pezzo. Le liste invece di Giorgio Venditti è buona. Card Order, grandi amici del fritto. E salutiamo il fritto. Fritto... Fritto... La lista Giorgio Venditori... E quella là con le rane, non le rane di Gurmag. Songs, 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 dovrebbe essere questa. Eccola qui. Vedi? Morge Todd, monopera di teachings... Tu fai le tue cose, poi puoi usare questa qui che col mana nero ti produce mana rossa e mana blu, e fai infine teachings per prenderti i riti oppure i ripping che ti mancano e vinci. Mi piace! Possiamo mettere... Allora, come sviluppiamo qua il mana? Ci serve la montagna per fare fissure, mettiamo sotto la foresta. Tanto non facciamo slando a turno 2, però possiamo fare turno... Aspetta. Perché questo aggiunge rosso, questo aggiunge rosso, quindi ci conviene mettere giù la montagna. Perché se peschiamo lo slando comunque possiamo farlo a turno 2. L'alternativa era fare turno... Come si dice? Turno 1 utopia sprawl, chiama rosso, turno 2 ornament, arborelf, e turno 3 slando. Invece così ci apriamo la possibilità di fare slando a turno 2 e comunque eventualmente lo possiamo fare lo stesso a turno 3. A meno che lui non ci faccia rimozione su arborelf, però quel mazzo non gioca gli slandi. La rana serve perché sennò non riesce a fixare bene il mana. Questo mazzo ha enormi problemi col mana fixing, perché o fai solo mana rosso o fai solo mana nero. Recicla street freight. Oh, qualcuno è in chiodatina, ha una terra, eh? Encantesimino, chiamiamo rosso. Tappo, stappo, cantesimino, possiamo chiamare di nuovo rosso. Tappiamo, ornamentino, cicliamo pure. Possiamo prendere un'altra fonte rossa, oppure una fonte verde. Tanto il rosso ce l'abbiamo a pizzeffia, quindi prendiamoci questo. Se lui è rimasto inchiodato a una terra e noi abbiamo un fissure, dobbiamo buone... Cosa mi fai bot qui? Ah, ok. Se non pesca terra adesso, tipo morto. Ah, come godo. Io, non sapendo né leggere né scrivere, uno slando ha questo 5 che lo appoggio. Aggiunge 2. Allora, forse potevo giocarla in maniera migliore, dato che è un instant. Potevo aspettare che lui in end ciclasse, così da poter fare una ciclata in meno adesso. Perché adesso si può ciclare due pezzi, quindi sì. Cioè, lui l'ha giocata bene per... Uh, attenzione. Dice, lui scava, si cerca la terra. Ah, vuol dire che è salita a 11 carte, a 11 terra. Vediamo se con 4 ciclate extra si trova la terra, altrimenti rischia di perdere, in ogni caso, la pescata. Ho sbagliato io. Vabbè, non importa. Ci sta a imparare dei propri errori, no? Tanto comunque giochiamo 11 slandi, quindi abbiamo una discreta possibilità di pescarne ancora. Qua conviene comunque giocarlo così, perché giochiamo gli ipopotami. Ah, che godimento! Madonna! Che bellezza! Decati questo slando! Ma qualcuno rimane sempre a turno 1. Sono proprio un ragazzaccio cattivo. Ti casca uno slando? E' un petto... Ufff! No! Disastro! Cicla, cicla, compa! Poi appoggiamo l'arpo elf. Sto stoncando. Ho un po' sbagliato con questo fissure. Con la scusa che con instant potevo tirarvelo in hand, però ho stoncato. Adesso lui deve decidere con questo... Lui in realtà la sta giocando bene, eh. E io sto un po' sculacchiando. Quello sì. Complimenti... Comunque bisogna dargli atto a San Lang che se la sta giocando bene. Cioè, sa che... Sa come giocare attorno agli Islandi, per quello. Cioè, tipo, io non saprei giocare così. Infatti avete visto che ho fatto 0-4. Adesso lui comunque si sarà visto tipo metà mazzo, quindi almeno tre terre l'ha vista. Però il problema maggiore è che così rimane indietro di Land-Drop. E sta andato anche abbastanza a basso di vita, però. Quindi, probabilmente è costretto a cercare di scombare il prossimo turno. Sembra che non abbia trovato la terra. Invece la concede. Niente terra, non si vince. Abbiamo avuto culo, eh. Pescavamo... Uh, tre terre al top deck avevamo. Quattro terre al top deck. E' un dinosaurio. Bene, andiamo...